Buonasera, buonasera a tutti. Sono qua con il professor Silvio Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che è qui con me. Grazie per averci dato l'opportunità di fare quest'altro punto informativo. Vorrei incominciare sempre con una notizia positiva perché dalla Regione Lombardia ci giunge notizia della guarigione di altre tre persone, quindi in Lombardia il totale dei guariti è salito a 40 e i guariti erano già registrati due in Sicilia e tre nel Lazio quindi il totale dei guariti è 45. Il dato complessivo dei positivi è in totale 650, poi vi daremo il dettaglio, la solita tabella, quindi non li sto a ripetere. Quello che è interessante rispetto a questo dato poi è il numero delle persone che sono in isolamento domiciliare, poi magari ci potrebbe spiegare il professor Brusaferro quindi che tipo di condizione possono avere perché sono a casa e quindi sostanzialmente ancorché positivi dovrebbero avere lievi sintomi o non avere difficoltà alcuna. Un altro dato che aggiorniamo è il numero dei deceduti perché dal dato della regione di Lombardia ci vengono segnalati tre decessi di persone ultra ottantenni, due persone di 88 anni e una di 82. Persone che comunque hanno un quadro clinico, avevano un quadro clinico delicato e importante. Per le attività di oggi è andato tutto nella norma, nella zona rossa non ci sono state segnalate criticità, voglio ancora una volta ringraziare la popolazione che è in quei territori che ordinatamente sta rispettando le indicazioni delle autorità, voglio ringraziare ancora una volta le forze dell'ordine, delle strutture operative, i nostri volontari, i volontari che fanno un lavoro prezioso perché ovviamente assistono anche in quei territori chi ha bisogno quindi trasportano la spesa, assistono le persone che hanno bisogno di avere il supporto il più disparato, supportano anche le strutture regionali della regione Lombardia al numero verde e soprattutto hanno garantito e garantiscono il montaggio, la gestione delle tende e delle strumentazioni che sono poste all'esterno degli ospedali per le attività del pre-triage. Infine fanno quell'opera importante anche di trasporto dei materiali di protezione individuale. A proposito dei materiali di protezione individuale il Dipartimento che ieri ha centrato con una ordinanza il reperimento per tutte quante le strutture, i dispositivi di protezione individuale ha già reso disponibile e stanno arrivando anche in queste ore oltre 35.000 mascherine e nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. Stiamo anche noi, come ha fatto la regione Lombardia, procedendo con acquisti importanti. abbiamo individuato fornitori e stiamo anche gestendo l'operazione dal punto di vista amministrativo che è un'operazione importante con le modalità e le condizioni richieste dal mercato. Voglio però ringraziare in questa fase Eni che ha messo a disposizione in Lombardia mascherine FFP2 in Lombardia e Veneto e la Pharmac Zabon di Casalecchio di Reno se non sbaglio che ha messo a disposizione le mascherine chirurgiche che andranno a beneficio della popolazione dell'area rossa del Lodigiano. Si tratta di una importante donazione di materiale di PI e quindi li voglio ringraziare per questa loro generosità a beneficio di tutti quanti i cittadini residenti in quelle zone. Io mi fermerei qui, vorrei passare le vostre domande e chiedere al professor Brusafero se vuole intervenire subito. Io gli do subito la parola e poi alcune domande e vi lasciamo. Grazie, buona serata a tutti. Vorrei cogliere l'occasione per precisare in maniera dettagliata l'iter attraverso il quale nel nostro Paese vengono effettuate le diagnosi microbiologiche di infezione da coronavirus e la loro conferma. Nella nostro Paese abbiamo una rete di centri di riferimento regionale che fanno la prima diagnosi, ovvero sia prendono i tamponi o altri materiali biologici e fanno un accertamento diagnostico circa la presenza del coronavirus di cui stiamo parlando. Qualora questa risulti positiva, ovviamente il dato che viene portato dalle regioni viene subito comunicato alla stampa ma contestualmente il campione viene inviato a Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità che svolge a sua volta un percorso diagnostico per confermare o meno la diagnosi positiva iniziale. Soltanto quando l'Istituto Superiore di Sanità certifica, ovvero sia il risultato del suo test diagnostico risulta positivo, a quel punto possiamo considerare confermato un test, una persona come positiva. Come potete capire tra il momento in cui viene eseguito in qualsiasi parte d'Italia nei centri regionali di riferimento un test e quando l'Istituto poi completa il suo iter diagnostico e quindi certifica o conferma passano delle ore legate al trasporto e riguardo alla processazione. Quindi in realtà c'è sempre fisiologicamente un delta tra i dati che vengono istantaneamente comunicati e i dati che l'Istituto conferma. Possiamo dire che alle 12 di oggi i casi confermati dall'Istituto sono 282. Ovviamente nel pomeriggio stiamo lavorando, come lavoreremo stasera, come tutti i giorni e quotidianamente daremo un numero dei casi confermati. L'altra informazione importante che vorrei ribadire, il numero di test risultati confermati positivi coincide. Abbiamo ricevuto 282 campioni, di questi campioni 282 sono risultati positivi. I campioni che riceviamo ovviamente sono campioni positivi e quindi il nostro è un test di conferma. Se un campione è negativo non ci viene inviato, rimane all'interno delle regioni. Questo è l'iter ufficiale previsto dal nostro Paese, questo è il flusso di dati che poi noi comunichiamo, una volta confermati, alle autorità internazionali che abbiamo anche incontrato in questi giorni. Anche presso l'Istituto oggi abbiamo avuto degli incontri operativi sia con l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia con i rappresentanti del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie proprio per definire e ottimizzare il flusso di dati di modo che le modalità con cui rappresentiamo i dati siano omogenee anche con queste organizzazioni internazionali. Bene, allora diamo spazio alle domande. Ci sono domande? Ecco, ci mettiamo un po' più in qua, ci avviciniamo. Buonasera. No, mi rivolgo al Professore. Questa mattina parlando anche col Professore Ricciardi ha detto una cosa abbastanza significativa a mio modo di vedere. Ha detto che forse c'è stato un eccesso di tamponi nel nostro Paese. In sintesi, e queste sono state le sue parole precise, la Germania e la Francia sono stati più bravi di noi perché hanno fatto quelli necessari. secondo lei, ok, lei mi dirà, lo chiede a Ricciardi di nuovo, va bene. Secondo lei, lei come vede un tipo di affermazione di questo tipo? Guardi, io credo che il tema dei campioni è un tema che parte da alcune raccomandazioni che le nostre autorità sanitarie hanno adottato e queste raccomandazioni indicano la necessità o l'opportunità di usare questi test laddove ci siano persone positive con dei sintomi, con anche delle caratterizzazioni specifiche che non credo sia il caso di entrare in questo caso. Nella fase iniziale immagino che nelle aree colpite o nelle persone strette a contatto ci sia stato sicuramente un ricorso al test. Dobbiamo anche ricordare che il test, dobbiamo ricordare anche un dato molto positivo. il dato molto positivo è la capacità del nostro servizio sanitario nazionale di andare a individuare i contatti stretti in una ramificazione molto diffusa del focolaio iniziale. Andare a individuare i contatti stretti vuol dire andare a individuare le persone che hanno avuto la potenziale esposizione all'infezione, quindi con persone portatrici. Va ricordato che i contatti stretti ebbene rimangano quarantenati perché il periodo di incubazione è di 14 giorni e quindi per loro la cosa importante è evitare che trasmettano intanto che si sviluppi l'infezione ma che se si sviluppa trasmettano questa ad altri soggetti. I contatti positivi e asintomatici sono di fatto una parte dei contatti stretti che necessitano di poter stare anche a domicilio evitando contatti stretti a loro volta di poter diffondere l'infezione. Una domanda sempre facendo riferimento a quello che ci ha detto Ricciardi stamattina riguardo ai bambini perché mi sembra che quello che si sa fino adesso dell'epidemiologia ai bambini fino ai 10 anni di fatto c'è una letalità nulla. Ricciardi faceva riferimento anche alla copertura vaccinale che potrebbe in qualche modo proteggerli. A lei questa cosa risulta? È possibile che i vaccini in generale aiutino anche a difendersi dal coronavirus? Guardi, le conoscenze che noi abbiamo ad oggi derivano ovviamente dalla realtà cinese. La realtà cinese, l'epidemiologia che ci riportano i colleghi cinesi, dimostra come le età più giovani sono le età che sono meno colpite o addirittura pochissimo colpite dall'infezione. E questo è un dato ormai scalabile su molte migliaia di persone come la realtà cinese e riteniamo che possa essere estrapolabile anche alla realtà italiana. La realtà cinese è caratterizzata da stati immunitari un po' diversi dai nostri. noi possiamo, questa è un'ipotesi su cui possiamo ragionare, è un'ipotesi che va approfondita. Angela, ultima domanda. Angela Capunnetto, Rai News 24. Una domanda al commissario. In merito a notizie che sono uscite invece sui quotidiani adesso, Cremona chiede più posti letto in ospedale perché ci sarebbero 81 persone contagiate, 18 dicono un po' più gravi di altri, hanno bisogno di posti letto. È vero, non è vero? Allora, come sapete la sanità è gestita a livello regionale, il nostro tavolo di coordinamento è un tavolo di supporto nel caso in cui a livello regionale non si riesca a fronteggiare la richiesta, quindi al nostro tavolo non è arrivata alcuna richiesta. Sicuramente le cose staranno come è detto nelle notizie di agenzia come è stato scritto ma rientra nella normale pianificazione della gestione dell'offerta ospedaliera trovare il posto dove poter portare i pazienti che hanno bisogno di cure. Quindi nessuna esigenza particolare, nessun allarmismo, tutti sono curati come devono essere. Grazie. Chiudiamo. Prego. Al di là dei giusti inviti a evitare gli allarmismi oggi mi sembra però dei numeri la giornata più difficile nel senso ci sono 250 contagiati in più rispetto a ieri, ci sono cinque morti. Ve l'aspettavate? Non so cosa dire. È tutto normale, non so che domanda farvi rispetto a questo. Le do subito la risposta. I numeri di ieri non contenevano il dato della regione Lombardia. Come avete visto qualcuno stamattina parlava di 450 contagiati solo in Lombardia. Noi ieri ne riportavamo 400 complessivamente in tutto il territorio. Ieri sera mi è stato detto, io sono venuto in conferenza stampa con i dati che avevamo della regione Lombardia perché hanno avuto un problema informatico. Quindi credo che i numeri, se li andiamo a distribuire nel modo corretto, a me non sembra. Basta ricostruire i dati anche così come comunicati dalla regione Lombardia credo che sia nello stesso trend. Però non ho fatto questo calcolo puntuale che è facilmente riscontrabile. Sì, sulle guarigioni, mi sono dimenticata perché il fatto che ci sia un alto numero di guarigioni nel corso di veramente poco tempo, come è spiegabile? Che cosa vuol dire? Può essere veramente una buona notizia? Il tema delle guarigioni dobbiamo ricondurlo alla dinamica di questa infezione. Noi sappiamo che questa infezione nella larghissima maggioranza dei casi è un'infezione che può passare asintomatica o con sintomi molto lievi. Sappiamo però che in una minoranza di casi molto limitata può portare a impegni delle vie respiratorie, delle basse e delle alte vie respiratorie e che per la dinamica dell'infezione la concentrazione di casi potrebbe creare ovviamente un sovraffollamento e questo è il primo motivo. Come tutte le infezioni è destinata a essere superata ed è destinata a lasciare una memoria immunitaria. Quindi ci aspettiamo che la stragrande maggioranza dei casi che oggi definiamo o asintomatici che potremmo definire neanche casi ma persone che hanno contratto l'infezione e sono asintomatiche o persone che sono ricoverate in reparti normali piuttosto che malattie infettive, pneumologia, piuttosto che terapia intensiva queste persone superino ovviamente questa infezione e ritornino rapidamente a una vita normale portando una memoria immunitaria. Su questo io vorrei anche cogliere l'occasione per un ringraziamento perché in realtà i nostri colleghi medici, infermieri e tutto il personale i professionisti sanitari si stanno veramente soprattutto in tutte le regioni ma in particolare nelle regioni dove ci sono molti casi stanno facendo veramente uno sforzo straordinario per garantire un'assistenza di alta qualità a queste persone e quindi il dato che vorrei sottolineare è uno la capacità di intercettare tutti i contatti stretti come capite dai numeri un'opera titanica ma molto importante per poter contenere questa infezione e due garantire un alto livello di assistenza e quindi i numeri che sicuramente cresceranno sempre più di persone che hanno superato l'infezione in maniera tale che l'impatto di questa possa essere il minore possibile. Grazie 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 Grazie